ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo a rilevare così il disco nel sistema operativo ovviamente se tu hai installato il tuo disco e il tuo sistema operativo non te lo rileva ad esempio io ho installato un ssd m2 sulla scheda madre questa è la stessa schermata della mia scheda madre non è mia però tanto per farvi un esempio per esempio lì c'è l ssd che è installato ma sul sistema operativo non c'è ok quindi bisogna fare una inizializzazione del disco quindi su gestione disco e adesso vi faccio vedere quindi ovviamente andiamo un attimo su gestione disco come puoi vedere qui ci sono tutti i dischi che hai installato sul tuo pc e come puoi vedere questo è il mio disco ovviamente non è allocato quindi bisogna inizializzare un nuovo disco e dargli anche un volume quindi clicco tasto destro sopra faccio così poi premo ok una volta fatto è stato inizializzato e possiamo avviarlo così quindi andate avanti proseguiamo con i gigabyte quindi con i megabyte che c'è tutto il disco assegniamo una lettera all'unità io metto la lettera e faccio avanti sempre avanti facciamo anche una formattazione e facciamo fine e abbiamo allocato così il nostro disco quindi si va sul mio pc ed eccolo qua perché quando quando stavo sulla schermata del desktop dicevo dove è finito il disco io ce l'ho il disco installato sulla scheda madre e non me lo rileva quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial iscriviti al canale iscriviti al canale